Grazie a tutti. Grazie a tutti. E significa la profonda umiltà di sentire che il proprio essere non è compiuto, non è concluso e di affidarlo al futuro. Ecco, allora proviamo a riconoscerci nello specchio delle speranze. Ma non è facile perché la speranza viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da sposa. In questa immagine di un ermeneuta francese, Paul Ricoeur, la speranza è solo un inizio, un inizio piccolo e povero e si affida alle nostre mani, chiede il nostro lavoro per diventare la seduttrice del mondo. E nelle pieghe della realtà forse riusciremo a scorgere solo frammenti o scampoli di quel vestito. Ma l'abito povero, l'abito di scampoli che la speranza indossa è richiamato tantissime volte dalla Bibbia. E io mi appoggio su quella grande sapienza del vivere. Ad esempio la fuga lunga e disperata del profeta Elia davanti ai sicari della regina Gezzabele nel deserto. Stanchezza, paura, fame, sete ed Elia, il profeta indomito, il profeta che adopera la parola e il coltello, si arrende, cade a terra, si trascina al povero riparo di una ginestra e prega così. Basta signore, non ce la faccio più, prenditi questa vita, meglio morire che una continua fuga disperata. E Elia cade in un torpore da cui lo sveglia una carezza. E' un angelo che gli dice alzati, mangia. E cosa gli fa trovare l'angelo per affrontare deserto e sicari una tavola imbandita? No, un cavallo bardato pronto a divorare al galoppo la steppa di Edom? No, un pane cotto tra due pietre roventi e un orcio d'acqua. Quasi niente, quasi un castigo per noi. Pane e acqua, che sono solo scampoli e stracci, direbbe Ricoeur, del vestito della speranza. E' una carezza. Perché sentivo prima che dire appunto, sono gli altri che risvegliano speranze in noi. E il profeta camminerà, ma sulle sue gambe e non portato da mani d'angeli. Per 40 giorni fino all'Oreb, pane, acqua e una carezza bastano a renderlo di nuovo protagonista. E il miracolo grande è proprio qui. La speranza capace di farci avanzare senza miracoli. La speranza viene a noi con piccole cose, non con i bagliori di improvvisi prodigi. E non soggiorna nelle corti dei potenti, non si esibisce sui palcoscenici dei filosofi, veste il grembiule di una bambina e ci dà il buongiorno ogni mattina. Lei sveglia noi, noi svegliamo la speranza. Ma viene con quella semplicità, perfino con quell'apparenza di inutile, che hanno le cose più essenziali, più importanti. L'aria, la luce, l'acqua, il respiro. Viene con questa apparenza di inutilità. Perché è come un germoglio, non come un albero grande. Viene vestita di granelli di senape. Come ha detto prima il sindaco. Viene con cinque pani e due pesci per cinquemila capi famiglia. Viene come la prima luce dell'alba, non come il sole pieno del meriggio. E allora, lo sappiamo, viene sotto forma di un incontro, di una telefonata, di un amico, di un sms, quando pensavi di non farcela più. Di una strigliata, quando ti eri seduto, o quando ti eri sdraiato. Una parola ascoltata alla radio, letta in un libro, una luce interiore. E alle volte non fornisce neppure pane e acqua, ma solo un pizzico di lievito per umanizzare i giorni. Noi invece siamo sempre lì, a domandare segni straordinari, vestiti da festa, vestiti da sposa, a un Dio illusorio e non ci accorgiamo dei segni piccoli del Dio reale. Ecco l'economia della piccolezza, attraversa tutta la Bibbia e anche la speranza. Gesù, che adopera l'immagine di una gallina, per dire Dio, ricordate quante volte ho cercato di radunarvi come fa una chioccia con i suoi pulcini. O di un seme di senape, per parlare di un regno d'amore che cambia il mondo. Il linguaggio teologico portato al registro più basso e più semplice. Gli ascoltatori di Gesù devono essere rimasti sconvolti all'idea di paragonare il regno di Dio a un granello di senape. A loro doveva sicuramente essere parso blasfemo associare il regno di Dio al più piccolo tra i semi. Ma Gesù si concentra sulla crescita del seme. E questa crescita, dal minuscolo al grande, ad assomigliare al regno di Dio, lì era chiusa la speranza. Mentre con ogni probabilità gli ascoltatori si aspettavano che Gesù parlasse di un regno in modo possente, anzi drammatico, un imporsi di qualcosa, Gesù sottolinea che dal più piccolo degli inizi matura la pienezza per una forza misteriosa che ha nome speranza. C'è un appello alla meraviglia dentro queste immagini di Gesù, a meravigliarci. Il regno non è soltanto un mistero su cui ragionare, è qualcosa di cui stupirsi e da godere. Allora prendere sul serio l'economia della piccolezza ci porta a guardare il mondo, il futuro e le nostre ferite in un altro modo. A cercare i re di domani, dove? Fra gli scartati e i poveri di oggi. A prendere molto sul serio i giovani e i bambini. I bambini danno ordini al futuro. A trovare meriti, laddove l'economia della grandezza sa vedere soltanto demeriti. A scoprire speranza dentro le pieghe della realtà. Per frammenti, come scampoli di un vestito, come polline di primavera nel vento. Perché Dio ama racchiudere il grande nel piccolo, l'universo nell'atomo, l'albero nel seme, l'uomo nell'embrione, la farfalla nel bruco, l'eternità nell'attimo, l'amore in un cuore e se stesso in noi. Papa Francesco, nell'apertura del sinodo dei giovani, mercoledì, ha invitato a due cose. A sperare e a sognare. Ha legato insieme i due termini, ha unito sogno e speranza come generazione di futuro. Di futuro buono. E lo hanno fatto in molti questa operazione. Shakespeare scrive che la materia di cui sono fatti i sogni è la speranza. La speranza è un dolcissimo sogno, sempre tradito, ma di cui non ci è concesso stancarci. L'ha fatto ad esempio Martin Luther King, quando inizia il suo più famoso discorso dicendo io ho un sogno. E quel sogno speranza ha generato una rivoluzione. E i grandi inventori, fondatori, creativi, profeti fanno così. Guardano l'oggi dalla prospettiva del sogno e del futuro e si mettono al lavoro. perché la nostra vita è questa sintesi instabile tra sogni e delusioni, tra aquiloni e venti contrari. Ma io so che, come dice una canzone di Romena, mi servirò del vento contrario per condurti in porto. Ecco, si può definire la speranza come San Tommaso, che dice è il presente del futuro. Si può leggere però il nostro presente in due modi. Lo possiamo leggere a partire dal basso, dal passato, oppure dal futuro. Il tempo vitale parte dal futuro, da ciò che desideri realizzare. Dal desiderio che è il motore della vita. È lui che dà ordini al presente. Il seme di grano, forse è un'immagine solo poetica, ma dire solo poetica è un errore. La poesia opera, crea. Il seme di grano spunta, chiamato non dal suo passato, ma chiamato dalla spiga futura. Il futuro degli inventori, dei creatori, si nutre di desiderio, di passione, di poesia, anche solo per gocce. Perché il fiume comincia con la prima goccia d'acqua. L'amore con il primo sguardo. La notte con la prima stella. La primavera con il primo fiore. Ecco, beh, il mondo, il mondo è ancora pronto a stupirci. Se noi da parte nostra resistiamo all'idea che come è successo ieri, sta succedendo oggi e succederà anche domani. Questo è l'inizio della depressione spirituale. Noi dobbiamo credere che la speranza va più lontano dell'aspettativa. L'attesa che hai ti lascia a contatto col tuo ambiente e ti dice che cosa ti puoi aspettare da lì. Non sogna. Invece la speranza ti fa compiere un passo oltre, ti dice che cosa puoi fare al di là di questo ambiente. L'attesa è come un ripiegamento su se stessi, un accartocciamento, con l'unico scopo di esporre il minimo di se stessi alla fatica, al vento contrario, alla opacità dell'ambiente, di prendere fiato per un giorno almeno. Dice solo no all'oggi, ma non innesca un sì perché non crea. Per creare occorre una dose pazzesca di desiderio nutrito di speranza. E l'aspettativa, le aspettative che abbiamo, non è la speranza. Io ho un'aspettativa di vita in media di 85 anni, ma altra cosa è la speranza di vivere. La speranza di vita è la qualità, l'intensità, la scintilla che mantiene acceso. L'ottimismo non è speranza. Noi vediamo un mucchio di macerie, eppure cantiamo al futuro. Ma non perché siamo genericamente ottimisti, ma perché come credenti io ho speranza. Ottimista è chi sorride a vuoto e dice che in fondo tutto va bene, ma non è vero perché non è così. Pieno di speranza invece è chi coltiva idealità, valori ed ha fiducia che è il capo del filo rosso della storia, che appare dolente, enigmatica, perfino insensata e ben saldo nelle mani di Dio. E che il nostro viaggio va verso casa anche se passa per l'angoscia di anni di esilio. come credenti noi non siamo ottimisti, noi abbiamo speranza. Ottimista è chi analizza la situazione e dice trova indizi sufficienti per prevedere un esito buono. Il credente invece spera. E questo non per l'analisi della realtà, ma per l'eccedenza di sogno, per il morso del più. C'è dentro il morso del più. L'ottimista dice forse ci saranno meno guerre. Chi ha speranza dice il mondo starà in piedi solo se ci amiamo, altrimenti ci distruggiamo. Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Tutto qui è il Vangelo. Ma non è ottimismo. È il morso del più che ci chiama fuori. Se io spero, non è per gli indizi premonitori che riesco a scorgere nella nostra Italia, dentro la matassa grovigliata di questa storia, ma perché mi appoggio su un altro, su di un Dio che ha le sue mani impigliate nel folto della vita. È lui il mio punto di forza. Allora la speranza diventa più forte dei fatti, li contesta, li attraversa e li modifica. Addirittura, lo ripeto, la speranza è più forte dei fatti. perché già sta immaginando il loro superamento. Vedete, lo so che bene che la realtà è complessa. Fatta anche di gente senza lavoro, di violenza, di affogati in mare, di bambini abusati. Eppure guardate, Dio disse all'inizio che bello, per sei volte, all'inizio della creazione, eppure c'era anche il serpente. Il padrone del campo nella parabola del buongrano e della zizzania ha occhi solo per le spighe, ne è innamorato, eppure c'è la zizzania. La realtà è drammatica. È fatta di buchi neri nel tessuto del mondo e anche dentro di me. Ma il seminatore, ricordate la parabola del seminatore, che semina su strada, su rovi, su sassi, può sembrare sprovveduto mentre getta il seme dovunque. Mostra però un'altra cosa, che Dio ha speranza e abbraccia anche l'imperfezione del campo. Come Lui, che abbraccia l'imperfezione dell'uomo, sono io quel campo, vuol dire accettare le persone come una storia ancora aperta, dove è sempre possibile ricominciare. Tutti siamo come quel campo della parabola, siamo tutti feriti, opachi, duri, spinosi, non finiti. Eppure, in questa umanità imperfetta, Dio ha fiducia. Eppure è adatta a dare vita ad un futuro forte e buono. Questa è la mia speranza. E il seminatore respira meglio, allarga il suo braccio, il suo gesto ampio, a mano a mano che noi diventiamo non già più bravini o perfettini, ma a mano a mano che diventiamo più veri e autentici, restando imperfetti. E allora, davanti ai buchi neri della storia, io non faccio l'elenco, voi lo sapete, suggerisco due strategie. La prima, non girare la testa, non nasconderla sotto la sabbia, ma ascoltare e far entrare in noi il grido dei poveri e di madre terra. davanti ai buchi neri questa è la prima delle strategie che danno futuro. Ricordate nella Genesi capitolo 4 Dio dice ad Acaino il sangue di tuo fratello Abele grida a me dal suolo. Il grido della terra che ha bevuto troppo sangue si tratta di provare dolore per il dolore del mondo dove c'è la moltitudine di chi adesso è ucciso, di chi adesso è inseguito, di chi in questo momento è cacciato nella fossa, di chi è solo, malato, impaurito. È possibile farlo se il cuore è dovunque, se il cuore non è asfittico, raggrinzito su se stesso. Cosa posso fare io per loro? Ascolto il grido e accade un piccolo, grande cambiamento. Non si tratta di fare qualcosa per loro, ma di se sono loro. io sono quelle persone impaurite, cacciate, minacciate, io al loro posto, sono io l'uomo, Abele e Caino, l'anonimo che in questo momento grida nelle foreste dell'Africa o nei deserti della Libia e della Siria o su un barcone verso Lampedusa o ricacciato in mare dalle coste dell'Occidente sazio o salta in aria a Kabul o è straziato a Sulawesi dallo tsunami. Io sono quell'uomo, quella donna è mia madre, quel bambino è mio figlio. Allora non sono lontane queste persone se il cuore è dovunque, se il cuore è spazioso, perché è necessario avere occhi limpidi e cuore spazioso. È necessaria la manutenzione dei sensi e del cuore per arrivare alla speranza, manutenzione dei sensi, dello sguardo, dell'udito, delle mani, del modo con cui tocchiamo gli altri e del cuore. Se il cuore è spazioso, se c'è posto per Dio, per i piccoli, per le creature tutte, non solo per me e per i miei problemi, cuore spazioso significa non tanto fare l'elemosina ma cominciare a dire io al posto di tutti i bastonati della terra. e dire no, tu non lo ributti in mare perché è mio figlio. Con combattiva tenerezza. Cosa risolve la tenerezza? Che soluzioni porta dentro il terrorismo di ISIS o di Al-Qaeda? Dentro i dammi dei naufragi, dei migranti? La tenerezza che è un innamoramento mite del mondo. non si arrende e fa ripartire il mondo e l'inversione di rotta di quest'arca di Noè di questo vascello che è la storia che se continua così va diritto sugli scogli e ripete il succo del Vangelo amatevi altrimenti vi distruggerete. Tutto qui il Vangelo ma è la rivoluzione. Scrive Emily Dickinson se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi non avrò vissuto in vano se allevierò il dolore di una vita e guarirò una pena se aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido non avrò vissuto in vano. Ecco sentire che io sono loro e la seconda pista la prendo da Kandinsky il pittore nella sua opera Spiritualità dell'arte che scrive così Tutti abbiamo sentito parlare dei buchi neri astronomicamente è ciò che resta dopo il collasso di una stella e che scava un buco nel tessuto dell'universo è un oggetto mostruoso che non ubbidisce più alle leggi della fisica ha delle regole tutte sue ma il buco nero è anche Auschwitz Hiroshima anche il mostruoso che si insinua qui ora gli annegamenti i muri i respingimenti il disumano che vediamo attorno a noi e che viene ammantato di ragionevolezza questo è il dramma oggi gli atteggiamenti disumani rivestiti truccati da atteggiamenti ragionevoli al vertice opposto del nero nella scala dei colori noi collochiamo il bianco all'opposto dei buchi neri i buchi bianchi che sono la possibilità di sottrarsi a questo sistema e di immaginare un'alternativa ecco la speranza per me sono questi buchi bianchi che cerco di spiegare bianco è un colore silenzioso ma ricco di potenzialità il bianco è il colore semplice della neve della luna delle nuvole il bianco è il colore più contenuto degli altri è proprio della non violenza e permette di dire cose che magari gli altri colori non sanno più dire ma ci permette di capire che c'è un'altra possibilità nella storia c'è una controstoria che però è scritta in bianco in modo mite silenzioso sottovoce non violento libero allora cos'è un buco bianco è il tuo spazio libero buco nero è lo spazio della fine del tutto buco bianco è lo spazio di inizio di tutto a partire da te il buco bianco è il fondo dello zainetto del bambino dove ha nascosto le figurine il muro della cella sul quale il deportato scrive messaggi d'amore di resistenza è l'eremo dove si traccia una strada verso l'assoluto e l'amico o una persona che è evasa dal sistema della omologazione ed è creativo per sé e per chi lo avvicina un poeta è un buco bianco nel tessuto della storia allora il nostro compito è trovare i nostri buchi bianchi i nostri spazi di resistenza che molto spesso sono piccoli e concreti un angolo del giardino un libro una pagina di un libro una riga di una poesia oppure una chiesa un albero ma è quella riga quell'angolo quella colonna che parlano proprio a me allora buco bianco è questo frammento di spazio e tempo a misura di uomo o di donna frammento libero e non violento che ti fa ritrovare e ripartire la forza dei buchi bianchi è la loro non violenza è la piccola crepa che lavora lentamente e che alla fine fa crollare l'edificio ma senza farci morire dentro nessuno è la crepa che tu non vedi è quello che non ti aspetti l'inatteso e lo vediamo da tante piccole cose ma nel mondo del consumo tu entri nel supermercato e non sei più in balia del supermercato di come sono disposti gli oggetti o della loro prima immagine o dei colori sei tu che decidi cosa acquistare hai un potere ma non è il potere di distruggere gli scaffali o di sparare al caporeparto è un potere che pone alternative io compro quella marca di cioccolato del commercio eco e solidale faccio per dire e non la Nestlé perché è ricavato va agli indigeni che stanno lavorando sull'albero del cacao allora io sto già pensando a un'alternativa stai dicendo un no forte ma soprattutto stai pensando che ci sono alternative a questo mondo stai votando contro questa economia che uccide e il mondo è pieno di buchi bianchi e da questi buchi salta fuori l'inatteso e io mi colloco qui e resisto all'omologazione vado controcorrente la resistenza con la mia diversità con la mia creatività con la mia originalità è sottrarmi al sistema vuol dire non accettare l'idea che il mondo è tutto uguale non accettare che è tutto lo stesso che così fanno tutti tutti complici tutti allineati tutti all'imbroglio non accettare l'idea che come è successo ieri sta succedendo adesso e succederà anche domani invece la speranza è la passione per il possibile il sorriso possibile la pace possibile un mondo diverso possibile credere allora nella possibilità che per tutti c'è una vita migliore che attende allora credere nella bontà il buco bianco ci insegna che il mondo è ancora pronto a stupirci però dobbiamo scoprirli i nostri buchi bianchi e poi procurarceli e costruirli e difenderli innamorarci di essi e fare manutenzione per un'altra economia un'altra comunità un'altra preghiera un altro umanesimo scrive un autore francese Christian Vaubin io scrivo con una minuscola bilancia da gioielliere su un piatto depongo l'ombra sull'altro piatto la luce un grammo di luce fa da contrappeso a diversi chili d'ombra ci ho creduto certamente a cos'altro credere se non all'incredibile basta un solo grammo di luce perché la luce è più importante del buio perché il buon grano conta più della zizzania perché il bene vale più del male allora alleviamo scintille allora diventiamo lì dove siamo delle pietre focaie che mandano attorno scintille allora buchi bianchi nella storia dicevo interstizi sul muro della storia lo spirito agisce proprio lì non sulle facciate ma sugli interstizi non a palazzo chigi ma negli interstizi della storia nei nostri paesi nelle relazioni per esempio agisce contro il gigante Golia non con un altro esercito più forte ma con la fionda di un pastore contro il faraone agisce come? con due elevatrici l'esodo inizia con due elevatrici che si oppongono al decreto del faraone di uccidere i bambini le prime obiettrici di coscienza della storia due donne aprono l'evento grandioso dell'esodo che bello il nostro Dio l'ho scelto per questo e mi commuovono certe storie impossibili mi danno speranza pensate quando il re Saul vede il suo regno cadere a pezzi è pronto per l'ultima battaglia ma capisce che è alla fine e allora va da una vecchia negromante dice ai suoi cercatemi una che sappia parlare con i morti che era proibito appena della vita e va da questa strega nella caverna di Endor per farsi evocare lo spirito di Samuele il profeta arriva appare ma gli annuncia con estrema durezza la fine sua e di tutti i suoi figli il re Saul a questa rivelazione sta male cade a terra ed ecco che la vecchia strega che sa di rischiare la vita è lei a prendersi cura del re e gli spezza il pane prepara il vitello grasso anticipa la parabola bellissima del padre che accoglie il figlio prodigo lei diventa madre misericordiosa invoca Dio una strega china sul grande re prega per lui quella donna che vince il suo cattivo mestiere e mostra che tutti siamo potenzialmente capaci di fare cose e di dire parole migliori di quelle che la vita ci fa dire e fare tutti i giorni e le sue parole risorgono Saul lo rialzano c'è una scena buia un buco nero che si svolge in una caverna eppure un raggio di luce e di pietà emana da una donna scomunicata e illumina tutto l'ambiente e che cos'è che la rende capace di pietà e di luce se non lo spirito di Dio che illumina una donna scomunicata e che le fa trovare incarnare il buco bianco della bontà e allora c'è da avere fiducia in tutti comunque sempre infinita umanità della Bibbia e l'ultima cena di Saul questa nella caverna di Endor forse le ultime parole buone che la vita che Dio che Samuele gli avevano negato la Bibbia è infinita anche per questo per gesti di uomini e di donne ordinari spesso scartati e peccatori che consentono alla parola biblica di essere qualche volta più umana delle parole pronunciate dai profeti i buchi neri ci sono ma ci sono anche i buchi bianchi e un grammo di luce fa da contrappeso a diversi chili d'ombra un albero una pieve una musica la bontà di una strega ci sono malattie morte lo sappiamo ci sono guerre fake news violenza menzogna respingimenti emoragia di umanità il mondo geme con le vene aperte di queste cose non mi posso innamorare ma ci sono anche streghe che diventano madri e un ragazzo troppo piccolo per fare il soldato che vince il più forte dei giganti allora io posso appassionarmi per l'esistenza sotto tutte le sue forme posso patire e appassionarmi perché non sono solo ci vuole però una merce una valuta preziosa per poter discernere i nostri buchi bianchi e manutenerli ci vuole l'attenzione la valuta più pregiata della nostra esistenza è il tempo la variabile decisiva delle nostre vite è il tempo l'unica merce impossibile da fabbricare per questo la nostra attenzione è contesa da tutto e da tutti attenzione significa dare tempo a qualcosa fermarsi su qualcosa dare tempo e cuore il piccolo principe una cosa è importante se tu le dai tempo attenzione dare tempo vedete c'era una volta ricordiamo tutti forse la notizia dell'ultima ora la trasmissione veniva interrotta lo schermo era silente per qualche istante poi arrivava una sigla edizione straordinaria oggi non aspetti trattenendo il fiato la notizia perché la conosci già perché ti è già arrivata almeno tre volte nel frattempo su tre social diversi siamo bombardati da richiami da news da whatsapp siamo dentro un fiume di fatti parole emozioni gridi boati al punto che non sappiamo più a chi dare la nostra attenzione in media un italiano guarda il suo cellulare cento volte al giorno più si è giovani e più lo si guarda magari a una certa età come la mia un pochino di meno pensate se ognuno di noi guardasse cento volte al giorno con quella intensità il marito la moglie i figli i genitori l'amico se noi li guardassimo attendendo un segnale un messaggio attendendo un cenno di attenzione di tenerezza con l'intensità con cui guardiamo il cellulare con l'attesa ecco quante cose cambierebbero se l'attenzione fosse risvegliata e indirizzata alle persone il mondo chiede attenzione cento volte al giorno e l'attenzione è sempre meno perché non c'è tempo quante persone ho sentito adesso pensavo che andando in pensione avrei trovato il tempo per fare invece no dice mi tocca fare più cose di prima quante volte hai pensato dietro uno stimolo interessante che ti è arrivato e dici adesso voglio proseguire il ragionamento e invece il pensiero si è perso nel rumore di fondo noi cediamo percentuali di attenzione ad ogni passo in macchina sui muri in cielo a scuola davanti a un docente o davanti al prete che predica sullo smartphone cediamo attenzione nelle pause tra una pubblicità e l'altra riappropriarsi dell'attenzione costa ma riacquistare la moneta questa moneta ceduta è indispensabile l'attenzione è la valuta di questa epoca è la condizione per innamorarsi della realtà e del futuro e avere attenzione io prego così qualche volta signore donami l'umiltà di far volare più lente le mie ali perché volando troppo veloce di qua o di là non hai più attenzione per ciò che incroci per ciò che vedi Gesù guardava la realtà con occhi svegli e sognanti insieme e ci invita a osservare con grande attenzione quando dice osservate guardate imparate dal fico dal tralcio dal giglio e poi da lì sconfinare in alto nel sogno di terra nuova e ceri nuovi ecco innamorarsi di questo nostro mondo della realtà e del sogno occorre avere occhi limpidi e attenti che sanno contemplare i dettagli perché ci si innamora dei dettagli di una persona di come si muove di come guarda di come ride se guardassimo la realtà con occhi attenti e amorosi svegli e sognanti insieme anche noi come Gesù comporremmo parabole nella nostra vita e vedremmo che la realtà è qualcosa di più da un problema di un problema da risolvere è un mistero gaudioso da godere e da cui stupirci da cui imparare la sapienza del vivere ecco la speranza quanto tempo c'è la speranza in ebraico adesso faccio sfoggio dell'ebraico che ne so quattro parole in tutto la speranza in ebraico si dice chi va la speranza è un termine connesso con la radice kav che indica la corda e allora in questa etimologia la corda che tiene insieme le cose sparse la corda dei muratori il filo a piombo che i costruttori tendono per edificare i muri della casa le mura della città sperare evoca l'idea di una corda tesa verso indica il tendere a l'attendere qualcosa o qualcuno le maestre della speranza sono le donne in attesa quando sono gravide di una vita nuova lì si capisce cos'è la speranza la speranza è come una corda tesa tra due realtà il mio presente che tende ad un futuro e la capacità di progettare traversate e coltivare nel presente un futuro buono come una corda tesa l'importanza data al futuro rivela la vitalità di una persona di una scuola di una parrocchia di un gruppo di un ordine religioso di una famiglia l'energia vitale la statura di un gruppo è direttamente proporzionale all'importanza che hanno il futuro i progetti le speranze a chi si rispecchia nello specchio delle speranze la vitalità di un gruppo di una persona è data dal prevalere di una corda tesa verso il domani e non attorcigliata su di sé sperare vuol dire coltivare tutte le condizioni di fecondità delle vite penso nella scuola e degli spiriti coltivare tutte le condizioni di fecondità perché non siamo al mondo per essere perfetti ma per essere fecondi di vita non siamo al mondo per essere immacolati ma per essere incamminati verso maturità di vita e nel libro di Giosuè Cav cioè speranza indica quella corda di filo scarlatto appesa alla finestra di Rahab la prostituta di Gerico che ha salvato gli esploratori ebrei e quella corda vedendo quella corda gli ebrei nel giorno della conquista della città salveranno lei e i suoi familiari dallo sterminio la speranza è questa cordicella di filo scarlatto appesa al balcone della mia vita alla quale io mi aggrappo perché? perché so che il capo del filo rosso della storia è saldamente nelle mani di Dio e Dio salva questo è il suo nome cos'è la speranza? è la testarda fedeltà all'idea che la storia e la vita mia sono nonostante tutte le smentite un cammino di salvezza la speranza sta nel cuore semplice dell'annuncio di Cristo è possibile vivere meglio per tutti è possibile una vita buona bella e beata come quella di Gesù e lui ne possiede la chiave è possibile per tutti una vita buona bella e gioiosa e il Vangelo ne conosce il segreto allora sono tre i motivi per cui io spero sono tre importanti non facili da spiegare ma importanti il primo motivo è la vita ha senso secondo motivo il senso della vita è positivo è crescita terzo questo senso positivo inizia qui e durerà per sempre la vita ha senso in questa terra barbara e magnifica non è così ovvio che la vita abbia senso dice Coelet il vento gira e rigira e torna sui suoi giri e tutto è come il pascolare il vento e si ripetono i giorni fotocopia di altri giorni e il suo disincanto noi diciamo è addirittura parola di Dio Shakespeare scrive la vita è una favola sciocca raccontata da un idiota che si agita sulla scena piena di rumore e di furore ma che non significa nulla una definizione bellissima e disperatissima e gli fa eco un verso di Bertolt Brecht quando dice le madri del mondo partoriscono tutte a cavallo di una tomba quasi a dire che la vita è risucchiata dalla morte che cammina sempre sul ciglio dell'ultimo burrone sull'orlo dell'assurdo ecco vedete la parola assurdo ha la stessa radice di sordo entra nell'assurdo chi non sa ascoltare il grido dei poveri la vita la natura gli altri la parola di Dio ascoltare la vita perché contro i nichilisti il Vangelo afferma Giovanni 1.4 la vita è la luce degli uomini ti manca luce guarda la vita contempla la vita assapora la vita vivi intensamente la vita non si nasce per caso non si muore per caso precipitando nel nulla ma dentro un abbraccio che ha nome Dio il primo motivo per avere speranza e il secondo il senso della vita è positivo senso significa etimologicamente che c'è una direzione un segnale stradale verso cui vanno le cose i giorni non sono senza meta non sono dentro un labirinto cieco senza uscita ma in che direzione va la vita verso la morte no la vita ha un'altra direzione un altro senso origene che è il più grande commentatore della Bibbia per me siamo nell'Alessandria del terzo secolo dice che il bene nell'uomo è presbiteron parola greca da cui deriva presbitero prete che vuol dire più anziano più antico più profondo del male il bene nell'uomo è presbiteron più antico più originale del peccato originale e infatti leggiamo per sei volte Dio vide che era cosa bella e buona in principio è la bellezza e la bontà in principio era la gioia dopo viene quello che chiamiamo il peccato originale in principio c'è un senso positivo c'è il primato del bene c'è una tunica di luce che riveste le persone e l'uomo si accorge di essere creatura assegnata da un senso positivo liberare tutta la luce sepolta in noi liberare tutta la creatività immessa in noi liberare tutta l'originalità che fa di ciascuno una parola irripetibile che Dio ha pronunciato chiamandoti all'esistenza che non ripeterà mai più il destino dei gili del campo è di trasformare la terra inerte in bellezza e in profumo di trasformare la luce del sole in colori il destino dell'uccello dell'aria di essere una nota di libertà una nota viva di gioia nel cielo il destino della terra è di diventare un giardino il destino dell'uomo è di crescere a più consapevolezza in tutto ciò che fa a più libertà e a più amore e in questo modo crescendo in queste tre direzioni positive porta con sé tutto il creato nella pace e nella chiarità luminosa dei figli di Dio speranza anche nel buco nero della caduta del peccato ricordate cosa dice la Bibbia la donna ti schiaccerà la testa e tu serpente le insidierai il calcagno il tallone vedete immaginiamo la scena il male può ferire l'umanità ma può solo ferirla non sopraffarla è in basso è inferiore è dietro non è al centro dell'uomo non è il cuore del tuo cuore il cuore è buono solo dietro di te è il male e insidia il tuo piede ma da dietro è in basso il male ti colpirà le spalle forse è un passato che talvolta ritorna ma non è davanti a te non è il nostro futuro l'uomo proteso in avanti ha un anticipo ha un vantaggio sul male e questo ritardo del male per grazia di Dio sarà un ritardo eterno allora acquisire speranza e acquisire bellezza del vivere che è bello voler bene avere amici sposarsi generare figli è bello essere frate resistere creare è bello amare pensare lavorare e riposare perché la vita va verso una liberazione verso più coscienza più libertà più amore e il suo senso inizia qui nella finitezza e continuerà nell'infinito la speranza è questa offerta di solarità di umile piacere di vivere di fiducia nel domani di nudo piacere di esistere per reincantare in qualche modo l'esistenza ma non è tutto qui questo è necessario ma non è sufficiente voglio ricordarvi un piccolo brano di Geremia questa parola mi fu rivolta dal Signore scendi e vai nella bottega del vasaio là ti farò udire la mia parola scesi nella bottega del vasaio ed ecco stava lavorando al tornio ora se si guastava il vaso che stava modellando come capita con la creta in mano al vasaio egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro di vaso Dio non butta mai via la creta ci rimette sul tornio cadiamo sette volte ci rimette sul tornio otto volte ci riprende in mano ci lavora ancora con la pressione dolce delle sue dita con il calore del suo palmo e la mia forza è nell'ostinazione fiduciosa del vasaio se Dio ha una mania è quella di sperare in me in te non siamo mai creta inutile per il Signore non siamo mai da buttare nessuno io sono vaso che viene male tante volte ma che è rimesso ogni volta sul tornio vivere questa infinita pazienza di ricominciare il vaso non riuscirà vedete quanta speranza c'è anche dentro la mia fragilità perché la mia forza è nelle mani del vasaio e forse quando questa mia anfora è incrinata o spezzata non sarà più in grado di contenere l'acqua Dio proprio quei cocci che a me sembrano inutili invece che buttarli via li ripara misericordia è l'arte di riparare oppure li dispone in modo diverso crea un canale con i cocci dell'anfora in modo che servano ancora perché attraverso di essi l'acqua arrivi scorra ancora verso altre bocche Dio può riprendere le minime cose di questa mia esistenza senza romperle anzi meglio ancora può riprendere ciò che è rotto e farne un canale attraverso cui l'acqua arrivi e poi scorra il vino scenda e poi scorra e raggiunga i commensali quelle persone che lui ha posto a sedere alla tavola della mia vita questa è la speranza del Signore in noi e allora capisco che la speranza è espressa da una piccolissima sillaba ri un prefisso un inizio di parola che è tipico del cristianesimo due lettere soltanto che significano ri di nuovo ancora un'altra volta da capo senza stancarti una sola sillaba che crea le parole più tipiche del cristianesimo riconciliazione risurrezione redenzione rigenerazione rinnovamento rimettere i debiti rinascere dallo spirito la stessa parola religione tutti i termini che indicano il cammino che riprende nonostante tutto è il prefisso della fedeltà di Dio a me e lì sta la mia speranza e si va di inizio in inizio sempre in camminati la strada è senza fine ma non senza meta la meta è il passo successivo di più liberazione di più coscienza di più amore scrive Don Lorenzo Milani finché c'è fatica c'è speranza sentite che bello finché c'è fatica c'è speranza la fatica dell'aquilone col vento contrario e Sant'Ambrogio dove c'è lotta c'è motivo di speranza dove c'è lotta lì c'è una corona un premio se qualcosa ti costa fatica non fuggire è segno che coltivi progetti che coltivi un piccolo Eden che merita il tuo impegno un uomo osservate attorno a voi un uomo una donna quando non sanno più affrontare fatiche quando non sanno più impegnarsi e lottare sono senza speranza e stanno entrando nella depressione quella malattia di cui abbiamo tutti una fottuta paura finché c'è fatica c'è speranza alla fatica vanno tutti piangendo Salmo 126 per il sudore che irrora la semina ma torneranno con passi di danza portando a spalle i loro covoni la nostra vita non è raccogliere o arrivare ma seminare ad ogni stagione partire ad ogni alba finché c'è fatica c'è speranza e allora è la fatica di andare controcorrente ad esempio perché noi per abitare alla terra ci siamo scelti il manifesto più contromano più stravolgente che si possa immaginare beati poveri felici gli inermi i miti i perseguitati i misericordiosi i puri ma cos'è questo se non il manifesto della speranza che costa fatica ma c'è una promessa Dio regala gioia a chi produce amore questa è la grande forza della speranza Dio regala gioia a chi produce amore allora ecco la speranza non è solo l'attesa ma è operare per un mondo e impiegarsi per un mondo migliore non è solo l'attesa di un bene arduo ma possibile e anche l'attesa di un impossibile alle volte secondo una tradizione rabbinica il mar rosso si aprì davanti al primo ebreo quando vi mise dentro il piede cioè i figli di Abramo non videro il mare asciutto e allora avanzarono dentro tranquilli ma mescolando fede e speranza mescolando speranza e incoscienza misero il piede nell'acqua e in quel momento l'acqua si aprì si aprì davanti alla loro speranza la speranza nel futuro e fede nella possibilità dell'impossibile accade l'impossibile sì certo e quante volte se guardiamo con attenzione l'abbiamo visto mille volte è possibile che Lazzaro esca dalla tomba è possibile che il persecutore dei cristiani Saulo diventi il più grande diffusore del cristianesimo è possibile amare i nemici è possibile porgere l'altra guancia ho visto vite capovolgersi per amore ho visto il deserto del cuore fiorire ricchi diventare poveri con i poveri ho visto il mare riempirsi di alberi come dice Gesù ho visto le ferite diventare feritoie come cantava un chansonier una poeta della musica ogni cosa ha le sue crepe ma è attraverso le crepe che passa la luce questa è la speranza la speranza non è qualcosa di sicuro che acquisito è un passo in più un metro in più una carezza in più andare un po' oltre e se accostiamo l'orecchio al cuore della vita al pulsare del cosmo sentiamo come nella notte della risurrezione un rotolio profondo di pietre smosse come il rotolare della pietra dal sepolcro di Cristo sentiamo milioni di semi che premono alle frontiere della vita smuovono attraversano aprono zolle che parevano impenetrabili ecco custodiamo germogli allora ogni germoglio ha in cielo il suo angelo custode custodiamo germogli vegliamo con coraggio spesso anche da soli sui primi segni delle cose nuove che nascono sulle prime luci del giorno proteggiamo l'esile filo d'erba capace con la sua punta fragilissima di aprire e di illuminare anche il nero dell'asfalto ogni germoglio ha in cielo il suo angelo custode e allora ricordiamo un'immagine per concludere l'immagine di Charles Peggy che dice la speranza è la virtù bambina in viaggio come la luce dell'alba in modo quasi inavvertito cammina a piedi nudi senza far rumore viene dolcemente come la carezza di un angelo come una gentilezza immeritata e inattesa cammina in mezzo alle due sorelle grandi la fede e l'amore si tengono tutte per mano e mentre la speranza bambina sembra che siano le due sorelle grandi a tirare avanti la piccola in realtà dice il poeta è la più piccola bambina speranza che trascina le altre due che sorregge l'amore che fa avanzare la fede ma la speranza non va da sé la speranza non va da sola per sperare bisogna essere molto felici bisogna aver ottenuto una grande grazia così scrive Peggy per sperare bisogna essere molto felici quella felicità che non è sazietà ma dilatazione espansione del desiderio la speranza scrive Emily Dickinson è un essere piumato che si posa sull'anima canta melodie senza parole e non finisce mai mette il nido dentro canta e non finisce mai porta una melodia un lievito e non la soluzione dei problemi ma basta che un uomo solo sogni perché un'intera stirpe profumi di farfalle basta che un uomo solo dica di aver visto l'arcobaleno di notte perché anche il fango abbia gli occhi rilucenti è con noi e la poesia di Manuel Scorza Torres un autore peruviano basta che un uomo solo sogni perché un'intera stirpe profumi di farfalle basta che uno solo dica di aver visto l'arcobaleno di notte perché anche il fango abbia occhi rilucenti noi ci siamo rotolati nel sogno per me il sogno è Gesù Cristo e il suo vangelo è un'umanità che sta fiorendo ne abbiamo adosso l'odore pochi o tanti che siamo ne profumiamo l'aria basta che un uomo solo sogni perché un'intera stirpe profumi di farfalle questo è il mio augurio e l'augurio è la certezza che non va perduto nessun atto d'amore non va perduta nessuna generosa fatica non va perduta nessuna dolorosa pazienza tutto questo circola attraverso il mondo circola come una forza di vita la risurrezione non si lascia sgomentare non si ritira ha già penetrato la trama nascosta di questa storia e non riposerà fino a che non avrà raggiunto l'ultimo ramo fino a che non avrà rovesciato la pietra dell'ultima tomba e noi siamo dalla parte della speranza allora vi lascio con una frase che ho visto sulla soglia di una casa nel deserto della Libia c'era scritto sul mosaico della soglia che vuol dire fai cantare in te stesso le speranze ecco facciamo questo e vedremo che la speranza è quella forza che non riposerà fino a che non avrà raggiunto l'ultimo ramo e rovesciata la pietra dell'ultima tomba grazie 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 grazie